Giornata numero 30 in serie di un campionato che in settimana ha visto la scrittura ulteriore delle regole per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Il Consiglio federale della FIGC riunito lo scorso 17 maggio ha deciso infatti in via eccezionale riguardo solo la stagione 2020-2021 che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei campionati di eccellenza. Lo stesso Consiglio ha così accolto la richiesta avanzata dalla LND condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi campionati di eccellenza alla Serie D. Considerate le posizioni nel girone F di Agnonese e Atletico Borto Sant'Elpidio fanno festa a tutte le altre che raggiungono la salvezza e potranno così già dedicarsi al prossimo campionato. Il Giulianova ad esempio potrà affrontare con serenità la capolista a campo basso al Rubens Fadini impegno che sarebbe stato chiave ma che ora assume per i giallorossi un significato differente perché la pressione sarà tutta dalla parte molisana anche se la squadra di Cudini pare aver scavato con le rivali notaresco in primis un solco difficilmente colmabile. Chiamato al blitz il notaresco che a Tolentino cerca i tre punti cremisi anche loro fuori dalla questione salvezza e che a 33 punti possono serenamente guardare al futuro mentre il rosso-blu di Massimo e Pifani non possono fare altro che fare bottino pieno in tutte le partite che mancano da qui alla fine sperando che davanti il campo basso inciampi in qualche appuntamento. Non c'è altra via considerati i sei punti di distacco in classifica e la gara in più che il notaresco ha disputato rispetto ai rivali. Chi sta risalendo in maniera prepotente la classifica invece è il Pineto che adesso può guardare con fiducia alla possibilità di raggiungere la zona playoff. La distanza è di soli due punti dalla coppia Castelfidardo-Matese che occupano la quarta piazza in coabitazione ma i biancazzori di Marco Pomante hanno due gare in meno dei rivali e soprattutto sembrano aver trovato la quadratura perfetta di squadra. L'impegno interno con il Montegiorgio di domani non è affatto proibitivo e allora un orecchio sarà anche agli altri campi. Se il Matese è sulla carta una gara morbida con l'atletico Porto Sant'Elpidio già in eccellenza e la Castelfidardo va in trasferta a Rieti con i laziali nella classica terra di mezzo ma con qualche piccolissima speranza di provare a migliorare la propria posizione. Sì, ormai siamo lì, però come detto il Montegiorgio è una bella squadra è a un solo punto dietro di noi anche all'andata ci ha messo in difficoltà mi ricordo un 1-0 come un risicato alla fine avevamo quasi rischiato di pareggiarla e quindi sappiamo la partita che ci aspetta sarà una battaglia ma naturalmente faremo di tutto per riportare a casa il risultato. Sì, dai, io gioco dove mi dice il mister non è che decido io sono a disposizione completa del mister siamo tanti, la rosa è lunga fortunatamente il mister ha tante scelte e ora in questo ruolo mi sto trovando meglio devo dire però, insomma, gioco dove mi dice lui. L'obiettivo di squadra è sicuramente quello di fare il meglio possibile fare i più risultati possibili arrivare più in alto possibile mentre l'obiettivo personale sinceramente non è che in questo momento ho un preciso obiettivo personale l'obiettivo personale è quello di riuscire anche io a fare il meglio possibile per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile come ho detto prima. Infine la vastese anche i biancorossi festeggiano la permanenza e lo faranno al Ditella di Vasto Girardi gara con poche motivazioni per entrambe le formazioni in un finale di stagione che avrà senso solo dalla metà in su della graduatoria in attesa di recuperi che dovranno porre la conclusione a una stagione quanto meno anomala recuperi peraltro ulteriormente riprogrammati mercoledì scenderanno in campo Atletico Porto Sant'Elpidio Atletico Fiuggi lo scontro tutto abruzzese tra Pineto e Vastese Giulia Novo Rimpiagnonese Rieti Aprilia e Vasto Girardi Campobasso